Nella sua carriera 200 presenze in Serie C, 76 con la gloriosa maglia della Provercelli con cui ha segnato anche 16 reti. Adesso il compito di salvare la team Altamura è di essere uno dei giocatori più esperti dell'attacco. Mattia Rolando si presenta così dal ritiro di Alfedena dove sta nascendo l'Altamura che si presenterà ai nastri di partenza del campionato 2024-2025. Siamo in quattro giorni che ci alleniamo, siamo ancora un po' forse in pochi, stiamo aspettando di complicare l'organico, però devo dire che stiamo lavorando bene, siamo pareti forti fin dall'inizio, il mister e lo staff ci fanno lavorare sodo, ci stiamo preparando penso nel migliore dei modi. Terza esperienza in Puglia dopo Monopoli e Foggia, che ti aspetti da questo girone C che un po' conosci adesso? Ma sì, adesso questo qua è il terzo anno, inizio un po' a conoscere il girone e cerco di aiutare i miei compagni magari che sono le prime esperienze e fargli capire che la Serie C è un campionato difficile e dobbiamo interpretarla nel migliore dei modi per portare a casa i punti. Quanto influirà il fatto di essere una neopromossa e quanto influiranno le motivazioni dei tuoi compagni che vorranno mettersi in mostra, soprattutto quelli appena arrivati in C? No, infatti quella dovrebbe essere la nostra forza, durante l'anno abbiamo cercato di partire forte, deve essere una nostra importante componente quella di pensare di giocarcela con tutti perché non abbiamo nulla da perdere e come dicevo prima di cercare di far punti ovunque perché essendo una neopromossa possiamo permetterci di giocare un po' più spensierati per cercare di portare punti a casa ovunque. Per i tifosi dell'Altamura che giocatore è Mattia Rolando che uomo si devono aspettare? Sicuramente prima l'uomo del calciatore, ne ho fatto uno stile di vita e penso di essere un giocatore d'utile che si fa apprezzare per la sua qualità ma anche per la sua quantità, quindi spero di dare delle soddisfazioni ai tifosi altamurani. Largo a sinistra nel 4-2-3-1? Un po' ovunque, largo a sinistra, largo a destra, io mi metto a disposizione del mister, poi sarà lui che farà le scelte. Dei nuovi compagni con chi stai legando di più? Sono tutti ragazzi giovani, ne conoscevo pochi, Minesso sicuramente è un ragazzo che è più nella mia età e lo conoscevo già e poi essendo stato già con il mister ad Arezzo lo conoscevo già, sto cercando di integrare tutti i ragazzi.